Doviamo essere pronti. Tu, io, gli altri. C'è un attacco in arrivo, da molto lontano. Non è in arrivo, Bruce. È già qui. Gli altri... Dove sono? Arthur Carey. Aquaman. Tocca a lui. Parte del corpo organico e biomeccatronico. È un cyborg. Forse dovresti muoverti. Barry Allen. Chiunque tu stia cercando, non sono io. Sei Batman. Hai detto che l'era degli eroi non sarebbe tornata. Deve tornare. Quali sono i tuoi superpoteri? Sono ricco. Tocca a me. Si va? Sono felice che sai fare di nuovo il gioco di squadra. Vestito da pipistrello. Mi piace. Magari è temporaneo. Ehi! Per... Per... Grazie.